Il freddo che inizia a far sentire, anche ai più piccoli soprattutto, grazie per essere stati stoici, dei veri rocker, è un ottimo inizio direi. Questo è un brano che ho ricevuto da una persona speciale, da un'artista speciale, che per sempre ha cambiato per me le cose in meglio. E' stato un privilegio ricevere questa canzone e il suo messaggio. Questa è sempre stato un modo per fermare il tempo. Grazie a tutti.